Investi quello stesso budget per costruirle le storie, per crearti esperienze da raccontare Cos'è che ci spaventa così tanto a sembrare strani in questo mondo? Ci fai vedere cosa c'hai sul telefonino dietro? Ecco È uno specchio Abbiamo paura di sembrare strani È veramente un conduttore televisivo mancato I telefonini che teniamo in mano tutto il giorno hanno al loro interno una telecamera potentissima Delle telecamere molto più potenti rispetto a quelle utilizzate per girare i nostri film preferiti Di questo ne parliamo con il king delle riprese da cellulare Il regista, vlogger, youtuber e malloru Signore e signori abbiamo un ospite veramente speciale Una delle persone che più ha ispirato la mia carriera da youtuber negli ultimi anni A parte il fatto che tu hai iniziato molto prima di me a fare youtube Eh vabbè però appunto mi ha ispirato tantissimo perché per chi non lo sapesse Emanuele Malloru, in arte e malloru È un regista di spot pubblicitari Adesso poi ci racconterà lui meglio Che ha deciso per passione di approdare su youtube Infatti nella sua descrizione instagram Dice ciao faccio video Esplicativo al punto di vista Non ci si può sbagliare Emanuele lo sai anche tu eh Luca ciao faccio finanza Più chiaro di così ti muore No ma infatti io ho scritto faccio finanza Faccio video e sono vegano Quindi insomma è la descrizione Hai scritto pure tu faccio faccio Si si no non faccio faccio l'ho scritto in maniera diversa però comunque ho scritto le cose importanti della mia vita Ho scritto anche che sono curioso ed è il motivo per cui siamo qua oggi perché Ema tu devi sapere che davvero mi ha ispirato tantissimo Perché quando io ho iniziato a fare youtube appunto come credo tutti Ho iniziato a comprare attrezzatura sempre migliore Obiettivi migliori Cercare di veramente migliorare quella che era il mio La mia attrezzatura tecnica per fare video Poi un giorno trovo i tuoi video e ho detto ok butta via tutto e tieni solamente il telefonino Perché Eman Loru fa dei video pazzeschi e lui dice che usa solamente il telefonino Ma quindi prima di tutto prima domanda Ma è vero che usi e fai tutto dal telefonino? Guarda al 99% filmo e monto col cellulare Quell'1% è dato dal fatto che tante volte magari devo fare una ripresa dove devo filmare materialmente il cellulare Quindi ho questa macchinetta compatta però in linea di massima uso il cellulare Ma anche la verità è che la qualità del cellulare è superiore alla macchinetta compatta Quindi oltre ad essere più comodo tenerlo in tasca Io sono, cioè difendo veramente tantissimo questa roba del filmare col cellulare Perché ho una sorta di trauma Guarda vi faccio vedere Allora, questo è un quadretto attaccato a un muro Mi vedi? Questo sono io Quando avevo 17-18 anni Con una telecamerina in mano Quella telecameria non era mia Me la prestava un amico E me la prestava tipo un giorno a settimana Perché poi era dei suoi genitori Quindi ovviamente non poteva sbilanciarsi nel prestito E io l'unico giorno a settimana che ce l'avevo filmavo come un matto E quindi il punto è Tempo fa avere delle telecamere, delle videocamere Era un privilegio per pochi I miei genitori, ad esempio la mia famiglia Non ha mai avuto una telecamera da casa Con cui filmare le festività e tutto No, gliene faccio una colpa Perché non se la sono mai potuti comprare E quindi io dico Adesso ci troviamo in un momento storico In cui tutti abbiamo in tasca Una telecamera potentissima Al di là del fatto che tu possa avere l'iPhone 11 Pro O l'iPhone 5 di nove anni fa Comunque la qualità è veramente esagerata Se paragonata a telecamere che esistevano in commercio 15 o 20 anni fa Ma dico per cui Io adesso Che comunque adesso Si ha la disponibilità Per acquistarmela Una macchinetta fotografica Ma come chiunque Abbastanza adulto Insomma Fa l'investimento di 500-1000 euro Si compra la sua macchinetta fotografica Ma la verità è che nonostante abbia delle macchine di altissima qualità In questo momento Anche legato al fatto che lo faccio di lavoro Il cellulare è quello che mi dà più soddisfazioni Per l'immediatezza quando lo utilizzi Tiri fuori dalla tasca Schiacci un pulsante E sei già operativo Quindi non ti perdi mai i momenti La versatilità Compattezza Comodità nel portartelo sempre dietro Quindi non c'è il rischio Cioè non devi pensare Sto andando in un posto Ma che fa Me la porto la telecamera per filmare No tu hai sempre con te la telecamera Perché il telefono Veramente io mi accorgo E da quando ti conosco Davvero ci faccio caso a questa cosa Noi ce l'abbiamo sempre con noi il telefonino E davvero Addirittura io Informandomi un pochettino Appunto dopo che ho scoperto Che tu giravi tutto quanto con il telefonino E dicevo ma no Ma è impossibile Non ci credo In verità mi sono informato Poi tu addirittura hai anche fatto un video Su YouTube Dove hai proprio fatto vedere Che con un iPhone Addirittura non questo qui Che è di ultima generazione E l'ultimo iPhone disponibile E uno dice beh cavoli ci credo Costa mille euro Tu hai fatto vedere Che sei riuscito a fare Un video bellissimo Tra l'altro con un audio Perfetto Con un iPhone Mi pare il 4 o 5 4 Il 4 Con lo schermo 8 Potevo fare una piccola truffa Nel video usando l'iPhone 4S Che da 4 a 4S C'è un anno di differenza Ma in quell'anno Hanno introdotto il full HD Hanno introdotto la stabilizzazione E invece ho preferito proprio Perché simbolicamente Mi piaceva di più dire iPhone di 10 anni fa Quindi non è in full HD Ma in 720p Il famoso HD Ready Se ti ricordi la TV Non ha la stabilizzazione digitale Quindi ovviamente Se non stai abbastanza fermo Lo vedi tremare Ma nonostante ciò Quando ho visto a schermo Le riprese di un cellulare Di 10 anni fa No di 10 mesi Di 10 anni fa Ma io stesso sono rimasto Molto soddisfatto Poi del risultato Però ecco Tornando a questo discorso Che sono molto Che mi gaso Quando la gente Inizio ad utilizzare Il cellulare Per far video Non tanto perché Lavoro per la Apple O per la Samsung O per chissà Quale compagnia telefonica Ne ho qualche beneficio Ma perché Mi immedesimo sempre Nel me stesso piccoletto Che non aveva la possibilità Di creare dei video Di creare delle storie Ed era l'unica cosa Che volevo fare Però non potevo farlo Perché non avevo Un centesimo in tasca Per farlo Adesso Mi capita in Italia Che qualche ragazzino Su Instagram Mi dice Ciao Manu Senti Ma me la consigli Qualche buona reflex Per fare dei video Su YouTube E dico Ma che cellulare c'hai L'iPhone 11 Ciao Ciao Perché le comprate Le camere Cioè a che serve Cioè Magari investi Quello stesso budget Per costruirle le storie Per crearti esperienze Da raccontare Per Appunto Lavorare sul contenuto E' la cosa Una domanda Una domanda Secondo te Fatto 100 Quello che è Un video di successo E tu ne hai fatti Veramente tanti Non ti nascondo Ema Che Tante volte Mi è scesa la lacrimuccia Vedendo i tuoi video Quanto è importante All'interno di questo 100 Fatto 100 La scala di un video Lo storytelling Come lo chiami te Ovvero la costruzione Della storia E il racconto Della storia Rispetto alla tecnologia Che stiamo usando Guarda Ora do dei numeri Però Parto dal Dal presupposto Che anche l'occhio Vuole la sua parte Quindi E' chiaro Che un video Se è ben fatto Ben girato Ben montato Ha una marcia in più Rispetto a qualcosa Di molto Molto casareccio Ma Il contenuto Per quanto mi riguarda Si becca ampiamente Il 90% Cioè Quello che tu hai pensato Hai scritto Hai concepito Hai ideato La situazione Che stai raccontando Vale il 90% Del video Quel restante 10% È dato da Il taglio visivo Il taglio di montaggio Io ad esempio Anche l'aspetto musicale Lo collo con il 90% Perché La mera Parte tecnica Di ripresa E montaggio Secondo me È veramente poco Influente Nel tuo Comparto Emozionale Quello che Importa Tutte le emozioni Che riesce a trasmetterti Un video O tutte le informazioni E la formazione Che ti riesce a trasmettere Quella visione Informandomi un pochettino Proprio Ti racconto brevemente La mia storia Io ho iniziato A fare A fare video La prima cosa Che ho fatto Anche perché Come giustamente Ti dici tu Oggi noi Adulti Possiamo Permetterci Una fotocamera Di buona qualità La prima cosa Che ho fatto Ho chiesto A tutti i miei amici Youtuber Ho detto Qual è la miglior Videocamera Che posso prendere La Sony Alpha Benissimo Io Ho comprato La Sony Alpha Subito Bellissima Che ti fa Lo sfocato Dietro E tutto quanto Poi informandomi Comincia a vedere te Comincia a informarmi E scopro per esempio Che il film 28 giorni dopo Che tra l'altro Va di moda Molto in questo momento Ok È stato girato Interamente Con un iPhone 8 E io l'ho visto Di recente Questo film E quando ho scoperto Che è stato girato Con un iPhone 8 Tutto il videochiamato Tutto dentro i computer Per caso No 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 Quello lì è calling Che addirittura lì Siamo oltre Nel senso che Addirittura lì È stato registrato Lo schermo di un computer Quindi addirittura Siamo ancora oltre 28 giorni dopo È la storia Di questo Di questo ragazzo Che si sveglia 28 giorni dopo In cui c'è stato Un contagio C'è stata una pandemia Un po' come quella Che stiamo vivendo oggi Però lì si trasformavano In zombie Sostanzialmente Ma sai che non l'ho visto Questo film 28 giorni dopo Quando ho scoperto Questa cosa Mi sono detto Cacchio Luca Ma tu che c'hai L'iPhone 11 Pro Cioè Questo qui È Veramente Possiamo fare i film Che vanno a Cannes Tant'è che addirittura Ti dico anche Quest'aneddoto C'è un film Che è È andato addirittura A Cannes Di Claude Leo Luc Che è questo Regista Famosissimo Che negli anni Sessanta Fece un film Cult Pochi anni fa Ha girato Un film Che si chiama Gli anni più belli Di una vita Che è andato a Cannes E ha vinto Interamente Girato con iPhone Tant'è che Si trovano le immagini Online di lui Che è lì Con Tim Cook Che gli fa vedere Ed è quasi È incredibile Vedere questi Questi set Che siamo abituati Nella nostra testa A pensarli Con i bracci Le mega telecamere È incredibile Vederli con Gli stessi Aggeggi Che utilizziamo Noi youtuber Sfigati Tra virgolette Per 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 Tenere il telefono Per fare Però Sempre questi Grandi registi Perché per esempio Anche Steven Soderberg Ha girato Ben due film Completamente Con l'iPhone Ma cazzo Ma hai studiato Ragazzi Ma io sono un professionista Cioè Io vengo a intervistare Un professionista Secondo te Arrivo Allora Sfigato Luca Tu sei un grande E la cosa bella È che Per esempio Questo Steven Soderbergh Dice Che Regista Per esempio Di Contagion Ocean Eleven Cioè È un regista Fichissimo Dice Che quando sei sul set Il telefonino È molto meno Invasivo Della videocamera E quindi L'attore Riesce A Esprimersi In maniera Molto più intima Come La traduci Questa cosa Qui nel mondo Reale Quando vai in giro Tu a filmare Effettivamente La percezione È molto diversa Perché non hai Quella ansia Da telecamera Per molte persone Avere una telecamera Punta da addosso È come avere un fucile Punta da addosso Col cellulare È diverso Perché le persone Comunque sono abituate Ad avere il cellulare Ad essere riprese Col cellulare Quindi Fare la stessa Identica Operazione Però con i due Dispositivi diversi Dà nella persona Che viene intervistata O filmata Una reazione Diversa Io Mi accorgo Ad esempio Che quando faccio I miei vlog E sono in giro In città E filmo Le robe strane Che vedo E mi metto là Col cellulare A fare quattro riprese Ovviamente Non mi si incula Nessuno Perché È un tizio Col cellulare Ma se al posto Del cellulare Avessi questa macchinetta Qualcuno pensa Ma chi è Un turista Che sta filmando Ma chi è Un giornalista Magari filmi Non lo so Un lampione Perché ti piace Fare quella ripresa Particolare E qualcuno Si avvicina E ti fa Ma scusa Che problema c'è C'è qualcosa Perché non va Guarda Un bar Perché lo stai filmando Io all'inizio Appunto giravo Con la Sony Alpha Con tanto di microfono E gatto morto Che è quella palla di pelo Che serve per evitare I rumori del vento Ecco Ovviamente Non lo sto spiegando a te Ma lo sto spiegando Magari a chi ci ascolta Questa è proprio La prerogativa Nel senso Quando per esempio Entri in un posto Sei per strada E sei con il gatto morto Ecco che le persone Capiscono Che stai Ecco Esatto Ma facciamo vedere A chi ascolta Esatto Questo qui ti trasforma In già Un professionista Diciamo E la gente Si avvicina a te E ti chiede Cosa stai facendo Perché capisce Che stai facendo Una specie di televisione No Quindi Effettivamente Invece Senza Sei uno Perfetto Signor Nessuno Che sta usando Il telefonino Come fanno tutti E questo però Ti consente Anche di arrivare Probabilmente In posti Che con una videocamera Tradizionale Non ci saresti mai arrivato Mi viene in mente Il vlog Nel video bellissimo Che hai fatto fare I tuoi genitori L'esempio classico È tua mamma Che all'interno Del museo Con il selfie stick Non la facevano andare Con il telefonino E basta Sì Non c'è altro Da aggiungere Perché quello che hai detto È impeccabile E preciso Cioè è proprio questo I telefonini Sono partiti Come chiaramente Dei telefoni Erano grossi così E servivano per telefonare Poi sono diventati Delle macchine fotografiche Abbiamo iniziato Ad utilizzare i telefonini Al posto Delle cartine stradali E siamo arrivati A utilizzarli come carta di credito Ora li utilizziamo anche Come degli occhi Perché di fatto Sono diventati Le telecamere Sono diventati degli occhi Anzi A volte addirittura Io vedo Magari i miei genitori Che cominciano a perdere Un po' la vista Li utilizzano Per vedere anche lontano Con lo zoom Secondo te Non c'è gli occhiali Esatto Secondo te Cosa ci aspetterà dopo Cosa ci aspetterà Cioè Arriveremo anche ad avere Degli occhiali Proprio telecamera So che esiste La fidanzata Telefonino Come il film R Che era fidanzato Con un'intelligenza artificiale Io già mi sento Abbastanza fidanzato Con il mio telefonino Perché Vengo in mano Più di qualsiasi altra cosa Non c'erano Dotti Di questo Nonostante siamo in quarantena Però Comunque il fatto È un messaggio Alle donne Che stanno ascoltando Per dire che sei singolo Però certo Il fatto che il cellulare Sia sempre più presente Nella nostra vita Farà sì Che a livello tecnologico Si possa arricchire Di tante altre cose Che adesso Magari non prendiamo Nemmeno in considerazione Io non so Cos'altro Si può inserire Nel cellulare Rispetto a quello Che già abbiamo La cosa che a me Piacerebbe È vedere un'evoluzione Dal punto di vista Appunto tecnico Sempre maggiore Cioè L'aspetto ad esempio Fotocamere E telecamera Che è quello che più Mi sta a cuore Chiaramente già In questo momento È a livelli altissimi Ma lo si potrà Sempre più migliorare Anche dal punto di vista Software Per dargli sempre Quella marcia in più Che magari Nemmeno la telecamera Ha Io ti faccio Ti dico una roba Il telefonino ha Soprattutto Gli iPhone Che sono quelli Che utilizzo Per la maggiore Hanno dei video Che a livello Algoritmo Algoritmico Ti generano Un HDR Cioè Un range Dinamico Maggiore In parole povere Che vorrei Se tu sei Contro luce A livello digitale Lui crea una sorta Di maschera Sulla persona Contro luce Aumenta l'esposizione Quindi teleillumina E tutto quello Che sta dietro Che invece sarebbe Molto 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 Luminoso Che lo abbassa Di esposizione In modo tale Da avere comunque Un'immagine Abbastanza Equilibrata Con le telecamere Questo non avviene Con le telecamere C'è C'è un altro C'è un altro Ragionamento Che L'estensione Quanto Quanto range Dinamico Riesce a sopperire Quella telecamera Che si misura in stop Quindi c'è la telecamera Con 14 stop 12 stop 10 stop Io Con la mia camera Che è appunto Un'Alfa 7S2 Quindi Ancora Regge benissimo Dall'essere considerata Una delle reflex Più potenti Sul mercato Quando riprendo Un tramonto Sono in esterno E tutto il resto Se c'è ad esempio Un palazzo O c'è il palazzo Illuminato O c'è il cielo Che Che mi diventa O bianco O azzurro Col cellulare Hai tutto Esposto In maniera Impressionante Perché c'è proprio Una roba A livello Di algoritmo Quindi non mi dispiacerebbe Che a livello Di algoritmo Si simulasse Magari la profondità Di campo Quindi Staccarti i soggetti Come accade Nelle foto Ma implementarlo Nel video Cioè ci sono tante cose Che a livello Software E anche hardware Tutto quanto Tutto quanto da telefonino Cioè che tu Fai letteralmente La ripresa Con questo iPhone E dopo Da telefonino Lo monti Ma guarda Controlla se c'è qualche Progetto aperto Che possiamo vedere Senza guardare cose strane Eccolo qua Qua c'è qualcosina Ah sì che tra l'altro Questo è l'ultimo vlog Che sto registrando Non so se si vede Qualcosa Sì sì Certo Certo E questa è la mia timeline Su cui io monto Ok Carico dentro Tutte le clip Me le taglio Me le sistemo Me le sposto Tutto da telefonino Cioè quindi tu I video I video che possiamo vedere Sul tuo canale YouTube Li fai da qua Sono montati dal cellulare Esatto All'inizio Allora non è che è stata Una scelta Per fare L'eroe di turno All'inizio Per me è stata Una roba comodissima Perché Riversare le clip Al computer Montarmele da là Poi era Era più complicato Soprattutto perché Io anche se ho un MacBook Lavoro In montaggio Per lo più da Windows Quindi i file Da iPhone Spostarli da Windows Tante volte ti danno Dei problemi E quindi Ho trovato Questo applicativo Che si chiama InShot Questo succede due anni fa E ho iniziato A giocherellare Magari fare Dei piccoli montaggi Per le stories di Instagram Volevo creare Delle stories di Instagram Montate Più andavo avanti Più mi rendevo conto Che quei montaggi Potevano essere articolati E quindi dicevo Caspita ma Quasi quasi Ci sto molto meno A farmene da cellulare Che non Riversare i file nel computer Montarmeli da là Esportarli Riportarli nel cellulare E poi caricarmi Su Instagram Certo Allora a quel momento Ho iniziato a montare Solo ed esclusivamente Dal cellulare Tutto quello che Producevo ovviamente Per i miei canali social Il mio lavoro Chiaramente me lo continuavo E me lo continuo Tutt'ora a fare Dal computer Perché naturalmente Usi anche strumenti diversi Tutta quella che era La mia produzione Video Internet Veniva e viene fatta Dal cellulare Bellissimo Sono passato A diversi applicativi Ne ho sperimentato Un bel po' Alla fine Sono arrivato Alla conclusione Che InShot Che è il primo Che ho utilizzato Ed è anche il più diffuso Al mondo Rimane veramente Un applicativo Assolutamente completo Cioè ti permette Di fare tutto quello Che ti salta Per la testa Ha qualche piccola Limitazione Chiaramente rispetto Ad altri applicativi Però che sono Più complicati Però è veramente Veloce Immediato Leggero Non ti si blocca Molto rapido Nell'esportazione Dei file Ti permette di gestire Colori Color correction Inserire effetti sonori Creare transizioni Dissolvenze Ecco Tutte queste parole Che hai appena detto Transizioni Color correction Montaggio Esportazione Una persona Che non sa nulla Ma Adesso che ha capito Che con questo telefonino Può davvero Andare oltre La semplice foto E fare l'album fotografico Perché alla fine Anche una persona normale Può davvero Crearsi dei bei video Che diventano dei ricordi Che potrà far vedere I propri figli Come facciamo A imparare Le stesse cose Che fai te Io so che hai Un progettino In ballo Che è proprio Per insegnare Alle persone Che sta uscendo Proprio Credo che sia uscito Proprio oggi Se non sbaglio Guarda Va bene L'abbiamo capito Che è il momento Marchetta Quindi con estremo Entusiasmo Ti racconto Del mio corso Sai benissimo Che io ci tengo Tantissimo E non vedo l'ora Di seguire Questo corso Quindi per quello E siccome come me Tanta gente Ti parlo Con estremo Il piacere Del mio progetto Grazie per avermelo chiesto Allora Ho realizzato Questo corso Di montaggio Da smartphone Lo volevo Realizzare Già un anno fa Però forse Avrei affrettato i tempi Perché non avevo Ancora quella competenza Necessaria Per poter parlarne In maniera Super impeccabile Cioè perché adesso Mi sento quasi più preparato Degli sviluppatori Di quell'app Di quanto l'ho utilizzato Questo software Perché tu conta Che quest'app Di montaggio L'ho utilizzata Tutti i giorni Per un anno intero Producendo 4 minuti Di video al giorno Quindi ho impiegato Ogni giorno Una barra due ore Su quell'applicativo Il motivo per cui Sono riuscito A spremerla Fino all'osso Allora Quando ho capito Di avere tra le mani Una conoscenza notevole In quello che significa Montare un video Dal cellulare Che tutti quanti Abbiamo in tasca Senza dover avere Computer Senza dover necessariamente Avere una telecamera Cioè totalmente Senza attrezzatura Ho detto Ma è possibile Che tutta sta Conoscenza Non la possa In qualche modo Condividere Ho fatto dei piccoli Esperimenti Con qualche amico C'è un amico Pizzaiolo Che inizialmente Mi chiamava Per fargli Per fargli delle riprese Sulla pizzeria Poi una certa Gli ho detto Senti Ma visto che Tanto le riprese Che ti devo fare io Sono delle banalità Perché sto qua Con la camera fissa Ti faccio delle panoramiche Ma se ti insegno A fartele Per conto tuo E lui non aveva budget Per comprare la telecamera L'ho anticipato E gli ho detto Esatto Non devi avere nessun budget Che telefono hai? Esatto Avevo un telefono Adeguato Di 3-4 annetti fa Un Samsung Andava più che bene Gli ho insegnato tutto Gli ho insegnato Come farsi le riprese In maniera pulita Gli ho insegnato Come montare Tagliare le clip Mettere i colori E tutto quanto Cioè alla fine Lui ha iniziato Ad appassionarsi Anche a questa cosa E oltre a tutti i video Della pizzeria Si è messo anche A fare video Per i cavoli suoi Che fa lo scema In giro con gli amici Quindi la cosa Che poi Non si è fermata Solo con quel Quell'amico Ma l'ho testato Anche con mia madre L'ho testato Con mio fratello L'ho testato Con qualcun altro Mi sono reso conto Che era relativamente Semplice Spiegare il meccanismo Di montaggio Utilizzando un'app Un'app Molto semplificata Io in passato Avevo fatto Dei corsi di montaggio Ma dal computer Ma era veramente Complicato Perché dovevi Dovevi intanto Permettergli di avere Delle basi In campo video A 360 gradi Perché devi sapere Cos'è la risoluzione Cos'è il frame rate I fotogrammi Tutta una serie Di tecnicismi Che invece Montando da cellulare Non hai Perché ti taglia Tutte quelle opzioni Che ovviamente Un professionista Deve avere Deve saper gestire Che per l'amatore O per chi ha bisogno Magari di crearsi Un video veloce Run and go Senza troppe Rotture di scatole In quel caso Non servono Dopo quest'anno Di rodaggio Che ho iniziato Ancora meglio A strutturare E capire Come e quando Non possiamo dire Che sei diventato Il numero uno Almeno in Italia Di riprese da iPhone E montaggio da iPhone Non mi prendo Nessun titolo Lo so Luca No te lo dico io Ema Te lo dico io Perché veramente Cioè i tuoi video Oltre a ispirare Oltre a lanciare Dei messaggi positivi Sono anche tecnicamente Fatti benissimo E per quanto mi riguarda Come ti ho detto all'inizio Sei davvero un'ispirazione Per me E per tanti Ora Domanda Prima di salutarci A parte tutto In questo corso qua Oltre proprio tecnicamente A come montare Dai anche qualche concetto Proprio di come si gira Qualche consiglio Magari su come fare Le riprese Assolutamente il tì Darò un'infarinatura Su tutto quello Che è l'aspetto Dello storytelling Un'infarinatura Sulla parte dello shooting Quindi Su come impugnare Lo smartphone Su che accessori Acquistare Per avere Determinate Caratteristiche Tecniche Come un audio Più pulito O un'inquadratura Stabile Tra stabilizzatori Cavalletti Cioè quindi Tutta la parte Che rende le nostre Riprese A un livello superiore E poi sarà Totalmente Incentrato Sul montaggio video Quindi La persona Che Come dire Ore e ore Ore di vacanze Accumulate Nella galleria Del cellulare Potrà In qualche modo Reimpacchettarle In dieci minuti Creando un mini film Molto emozionante Molto D'impatto Il professionista Come potresti essere tu Che chiaramente Ha la necessità Di autoprodursi Dei contenuti Dei video Con estrema Immediatezza Può Con il cellulare stesso Fare quei due Tre tagli Inserire quelle due Tre grafiche Per essere proprio Run and go Nella pubblicazione Sui social L'esempio del mio amico Pizzaiolo Hai una tua attività Non hai a disposizione Infinite cifre Per il marketing Per pagare quindi Un filmmaker Tutto quello Che può essere La tua comunicazione Quotidiana Quotidiana Certo Come dice Montemagno Il futuro è nei video Bisogna produrre 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 Non è che tu Tutti i giorni Puoi avere lì Steven Spielberg Che ti fa i film In pizzeria No quindi Prima di salutarci Ci fai vedere Cosa c'hai sul telefonino Dietro Che Facci vedere Allora Che c'hai Ecco È uno specchio È uno specchio Vabbè Fatto in maniera Molto artigianale Poi ci sono tutte Le mie impronte In questo momento L'ho tagliato Col taglierino In realtà Questo è un prototipo Di una cosa Che vorrei sviluppare Praticamente permette Di bloggare Utilizzando la fotocamera posteriore Aspetta di passare Così ti vedi Così io praticamente So esattamente Dove mi sto inquadrando Quindi Non mi inquadro Troppo in basso Non mi inquadro Troppo in alto Ma mi posiziono Perfettamente al centro Guardando Da qua Dallo specchio Ecco io In questi casi Metto il grand'angolo Così non sbaglio E buonanotte Senti Ema Sappi Che io Ti ho fatto Quest'intervista Questa chiacchierata Perché Adesso mi aspetto Dato che metterò Il link Del tuo corso In descrizione Mi aspetto Che tu Il corso Me lo regali Quindi io Tutto sto casino L'ho fatto Perché voglio Il corso gratis E voglio Un bel feedback Da parte tua Assolutamente Quindi ragazzi Se davvero Volete Appunto Diventare Dei videomaker Di fatto E imparare A montare Tutto da telefonino Vi lascio Il link Per raggiungere La pagina Dove potrete Trovare Il corso Di Ema Alloru Sul montaggio E sull'editing Appunto Da telefonino Ema Io ti ringrazio Tantissimo Noi ci vediamo Prossimamente E un grande Abbraccio E davvero I miei complimenti Perché sai che sei Una delle persone Che più stimo Su questa piattaforma Grazie Luca La stima È reciproca Sei nella mia Top 10 Cercherò di scalare Ciao Ema Un abbraccione Ciao Luca Allora ti creo Subito l'accesso Così se Sì sì Ti dai un occhio Ti vuoi chiamare Con un nickname In particolare Tipo Bimbetto Stiloso Ciao Grazie a tutti.